La Corte del Drago vi aspetta nel castello di Prunetto tutte le settimane, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 19 su prenotazione. Il giovedì e il venerdì con visite guidate ed il sabato e la domenica con visite guidate animate. Inoltre non perdetevi l'occasione di poter vivere questo castello nella suggestiva atmosfera notturna. Sabato 11 luglio in occasione della festa degustando tra i borghi rimarrà aperto eccezionalmente dalle 19 alle 24. Non mancate, vi aspettiamo!